vado alla torre io vieni qua sono i primi questi eh vuoi dire che sa farti? a terra bravo impariamo con l'oro di anima vai bravo ammazza MAZZA una terra un altro do va qua bravo impariamo sta arrivando fermo si eccolo ancora me morto no non è scoppata è tornato tra gli altri ad offrito materiali è pieno è pieno i tedeschi no i tedeschi i tedeschi i tedeschi eccolo qua no da dietro merda si eh ma sei chinato abbiamo spostato l'acqua a dove cosa fai? morto? si materiali mi piace un po' di materiali porco da dietro e dai mannaggia la madosca ma sarà pure questo oh si siamo primi ehm da sto adesso a niente a dove cacchio sono responato mannaggia sta avveni pure il secondo stanno avveni tutti forse giuda aspetta aspetta mettiamo la cosa sono tutti qua non fa un cacchio di danno saire di merda stanno qua sono qua eccolo qua aia si lo so si lo so morto ok orco schifo la minimo fucile si che ho due scudini io guarda la tutta la tutta la tutta la cosa mi è io ce l'ho pure ma l'annaggia chi di capa andiamo andiamo al secondo qua eccolo forca paletta meno male che stava l'albero fatto 13 19 1 2 non mi ricordo non c'erai si mi ha invitato alberto giocatore metti a jump si metti a jump oh forco vabbè bravo qua 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 vieni in safe vieni in safe vieni in safe stavolta meno male che c'è ancora il suo bug no no sono caduto si buscano sta qua sopra si quanta gente quando sai mannaggia si sparano più di bravo bravo non so io quello o che l'ho messo a terra e la sono mori si mamma mia cazzo si si marco dio